Bella a tutti i miei slimes, qui Alv, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Armageddon di Ketama. Ebbene sì, finalmente è arrivato, tra l'altro lui non droppava da un bel po' da Keti praticamente a livello proprio di progetti, e io sono sia un sacco in hype ma molto molto spaventato, perché se avete seguito le reaction che sono uscite in cui abbiamo parlato di Ketama in questi anni, in questi mesi, ho un problema con lui, diciamo che da Keti in poi non riesco più a vibare come un tempo sulla sua musica, quindi per me questo album è la prova del 9, ho questo aspetto perché stamattina mi sono svegliato così con i capelli alti, non mi andava di mettere il cappello perché fa caldissimo, sto già sudando e tra l'altro io non capo mai, quindi partiamo subito con l'intro, vivo per vincere, ma prima di farlo come al solito, se non lo siete iscrivetevi al canale Mortacci Vostra e invece se lo siete già, bella per voi, attivate la campanellina così non vi perdete le notifiche e soprattutto lasciate già un mi piace. Bene, Ketama, a noi due, prodotta da Ketama, eh. No per la fama, per la gloria, ritornare indietro all'inizio della storia, ho perso tanti amici, non ho perso la memoria, citazione a suo pezzo vecchio, Uh, sto finendo all'inferno, vabbè, ok, Ketama. Ok, bene, un intro molto semplice, cortina, che secondo me è un biglietto da visita per l'album, Alla fine è una canzone in perfetto stile, in perfetto stile Ketama, a partire dalla produzione, che presenta tutte le sue solite influenze, poi il testo anche abbastanza conscious, per esempio, pensavo di mollare, poi mi è ritornata voglia, quindi, diciamo, ci sono anche questi aspetti un po' introspettivi. Andrei subito con la seconda, che è Coca Rosa, featuring Raph Camora. Coca Rosa sulla sigaretta Ehi! Me l'ho data ma non gliel'ho chiesta Me l'ho data ma non gliel'ho chiesta Parla tanto ma non mi interessa Ehi! Niente flusso di coscienza Flusso di denaro, l'entrata e partenza Ok Scusate, eh, fa caldo Ehi! Ok Ve lo dico davvero con la massima sincerità che non mi piaceva una canzone di Ketama, in questa maniera, penso veramente o da, come cazzo si chiama, Rehab o da Oh Madonna, perché questa è una hit clamorosa, super catchy, il ritornello per me è stato devastante, veramente bellissimo, in generale tutta la vibe della canzone è molto bella, lui ha fatto una bella strofa E poi c'è questo Raph Camora che dovrebbe essere un rapper tedesco E se non sbaglio da quelle parti è pure bello in fuga in hype, quindi GG per Ketama, tra l'altro ho visto che non è nemmeno l'unico fit tester, anzi ce ne sono diversi di questo album Bella, bella, hitona L'ho messa in playlist, mi raccomando, trovate il link alle playlist in descrizione Andiamo con la terza che è Armageddon Ok Va bene, Conscious Le sporche sono carine Sono bigue Questa se non sbaglio era già un singolo uscito, forse il primo estratto, non vorrei dire una cazzata, comunque sicuramente era uscita prima dell'album perché me la ricordo, non l'avevo mai ascoltata Vi dico, ci sta, anche in questo caso una canzone un po' quelle in stile Ketama, cioè proprio la chitarrina, sempre la sua vibe un po' triste, malinconica Ci sta, già vi dico che magari in confronto a Coca Rosa non mi è piaciuta così tanto, chiaramente sono due canzoni veramente diversissime, però diciamo che ok, possiamo passare avanti a Ragazzi Fuori Ah, pure questa era, se non sbaglio, era già uscita, è un singolo estratto, vero? Una scollatina in via del lido, forse per questo motivo il mare fa sentirmi vivo Storytelling, eh Solo che stavamo stretti dentro un letto in te, poco dopo un altro trasferimento, venne il trastevere e sembrava tutto male Ok Per le scale, carina regà Ok Anche questo era un singolo estratto, quindi era già uscito, non avevo avuto mai modo di ascoltarla E in questo caso mi è piaciuta parecchio, è proprio un bellissimo storytelling in cui essenzialmente Ketama proprio racconta quasi tutta la sua vita Da quando era piccolo, quando poi si è trasferito a Trastevere, le stesse scale, i 126 scalini da cui poi è nato tutto La 126, Ketama, Franco, citazioni ancora a Preti Solero, Gordo che è un loro amico che non c'è più Quindi soprattutto per chi lo segue da un po', e io faccio parte di queste persone perché comunque dal 2017 ormai che comunque conosco barra ascolto Ketama Ma anche 2016, è proprio una cosa figa perché davvero ti sembra di ripercorrere tutto Quindi bella così, sta canzone è veramente carina, andiamo avanti con Benedizione Ok Anche a questo giro niente male, ci sta un sacco, tra l'altro vedevo adesso che diverse canzoni dell'album sono prodotte da Ketama stesso Questa per esempio coprodotta con G Ferrari che è un altro ragazzo che lavora molto con, insomma, con i membri della 126 Tra l'altro non sentivo il suo nome da un po', ma alla fine è un po' breve quindi ci sta, io passerò avanti con Animale, Featuring Noise Narcos e The Whispers Vedete anche questa prodotta da Ketama e Ned Skinny Oh, citazione a una persona iconica Ok Bello il ritornello Mamma noiz Bella, bella, senza alcuna ombra di dubbio Ketama e Noiz secondo me sono una coppia esplosiva E tra l'altro sembrano un po' papà e figlio Perché poi vabbè tutti i membri della 126 hanno sempre detto che chiaramente il Truce Clan per loro è stata una fonte di ispirazione non indifferente Azzeccatissimo Noiz in una canzone così perché la produzione è proprio in perfetto suo stile Comunque anche Ketama davvero un point, bello il ritornello e boh sta canzone è una hit Andiamo avanti con Tanga Tanga? Fottuto Ecco Kylie Kane Viva Ehi Però viva a Barcellona Raga ho avuto per un attimo un'illusione troppo bella Pensavo che Ketama concludesse la sua strofa con Vamos a llamar un par de putas Daie Alla romana Comunque che dire di tutta la canzone a parte gli scherzi Bella Ci sta Diciamo che effettivamente entrambi si sono molto influenzati Perché a questo giro Ketama sta un pochino più su quella wave reggaeton Che poi in realtà sia Kedy Kane, scusate non lo so pronunciare bene, avete ragione sono un coglione Ma anche Young Beef fanno molto al modo loro, c'è questo reghetto un po' oscuro, non so neanche come definirlo La produzione è di Kamiar, mamma mia che bellissimo nome, ha prodotto certe hit per la Darpolo Gang dai tempi del 2015 Assurde, una su tutte Toro Meccanico di Pyrex, mi sa che si chiamava così, sto andando subito a vedere Sì sì è proprio Toro Meccanico che è devastante Comunque sono felicissimo soprattutto per l'unione C'è proprio il fatto che Ketama abbia chiamato Kedi Perché lui così come Young Beef lì in Spagna sono delle icone Quindi sta cosa mi fa molto molto piacere E andiamo avanti con la prossima che è su e giù Ok 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 mi sa che si riferisce alla droga Sì sicuro Bella la produzione M sa proprio del no Guardate anche la voce distorta che ricorda proprio l'effetto delle droghe Molto molto carina, questa mi è piaciuta tanto Innanzitutto perché è super particolare proprio a partire dalla produzione che è stata fatta dal drone E il 3 che penso sia il 3 storico che produceva per Giammitex Forse produce ancora non lo so non seguo più Giammitex Comunque bellissima la produzione Ma anche Ketama è stato molto bravo E secondo me la cosa più interessante di questa canzone è il ritornello Che è un chiaro riferimento alle droghe E vado su solo per un momento Il tempo insomma che le droghe facciano effetto E vado giù e dopo me ne pento Perché ti penti insomma di aver magari di esserti drogato così tanto Che cazzo ne so Quindi mi è piaciuta davvero tanto per questo E' molto carina, poi anche a livello di sound ci sta un sacco Andiamo avanti con Dimenticare Ok Va bene Ok Ehi Qualcuno si è perso Qualcuno non c'è più In giro per queste strade In solito sei altrove Forse è il male minore Ti guardo andare come se fosse un spettatore Non ci spente Non c'è più niente Che tenga lontano Mamma Franco Molto carina anche questa Regà Tra l'altro che Tamo e Franco come coppia sono una certezza Vi dico la verità Ci sono canzoni che hanno fatto in passato Che mi sono piaciute di più di questa Comunque è molto carina Se c'è una cosa che non capirò mai È perché Franco non fa un album Che sia a metà praticamente Tra la sua roba commerciale Quindi quella un po' che stretta l'occhio all'indie E queste strofe rappate Perché lui a rappare è veramente fortissimo Tra l'altro ha anche un modo di scrivere bellissimo E quindi se facesse un disco Che vada a essere a metà strada tra le due cose Secondo me sarebbe laoti a mani bassissime Comunque entrambi hanno fatto il loro Andiamo avanti con Ribelle Madonna sembra playboy kart type beat Va bene E non fa una piega Non so come prenderla Allora sono davvero perplesso per l'ultima parte Perché questo ritornello Che già diciamo di suo è abbastanza Cioè secondo me è anche carino Però nella seconda parte Fa cantare praticamente a un coro di bambini Ok ci posso stare Sicuramente è stata un'azzardata Non mi sento di dire Né che sia non riuscita Né che sia riuscita Non so come prenderla Quello che vi posso dire È che secondo me Inizia a esserci qualche fillerino Perché la canzone di base è carina Però vedendo soprattutto che il progetto ha 17 tracce Magari sarebbe stata una di quelle canzoni Che avrei provato a togliere Per renderlo un pochino più snello E più fluido nell'ascolto Però non è brutta Andiamo avanti con Big Bang Perché penso di aver già sentito il beat? Uuuuuh Ehi Ehi Aiuto Ha spaccato tutto a sto giro raga Allora Senza ombra di dubbio Questa è la canzone più spietata Fino adesso dell'album Cioè proprio Cattiva Forse anche quella che ha le sonorità Un pochino più trap E tra l'altro L'ha prodotta drone E infatti mi ha ricordato un sacco Una canzone che uscì nel 2018 Proprio sul profilo spotify di drone Pillole blu Che non era proprio La stessa wave Però a livello di crueltà Si dice crueltà Vabbè di cattiveria Di come cazzo lo volete dire Mi ricordo un po' quella roba lì E Ketama lo sapete Che su queste cose È fortissimo Anche perché Dischi come Oh Madonna Sono praticamente Molto più trap Che magari Un po' come ormai Ketama Siamo abituati ad ascoltarlo Dare hub in poi Un pochino più emo Lui secondo me a fare sta roba Se si mette È veramente veramente forte Andiamo avanti con Stop Andiamo avanti Senza guardarmi indietro Uuuuuh Senza sentire la fatica Il freddo il cielo Bello Mi fai volare Sack Sack Anche se era uno spazio Si vuole Mi ha vita migliore Poi possa miglior vita Bello la produzione Carina Sicuramente approvata Questa per esempio È un'altra canzone Prodotta esclusivamente Da Ketama E partirei proprio da qui Perché a questo giro Secondo me Lui si è superato Nella produzione Perché poi Nella seconda parte C'è un piccolo switch Cambia un po' Proprio ritmo Melodia Diciamo che mi è piaciuta più La produzione Che magari La parte cantata Nulla da togliere Per quanto riguarda Il Ketama Re Per canzoni del genere Bene o male Le abbiamo già sentite Si sa che è roba che sa fare Mentre per il Ketama produttore Secondo me è un bel passo avanti Perché è davvero carino il beat Andiamo avanti con Sparando alla luna Sparando alla luna Stiamo là eh Ok Ok Carl Brahe Ecco pretisolero Ok Ehi Niente male Tra l'altro Tutti e tre Sono artisti Che tra di loro Hanno collaborato Più volte Ketama con Carl Brahe Ketama con Pretti Ma anche Pretti Con Carl Brahe Secondo me hanno fatto Una bella canzone Alla fine Poi Carl Brahe Fa giusto un piccolo Pre ritornello Quindi niente di che Le strofe sono di Ketama E Pretti Solero Bello ritornello Anche a livello di linee Melodiche Diciamo che la melodia Della canzone è un po' Boh mi ricorda il Far West Non lo so perché Però diciamo che Le sonorità un po' così E anche Pretti Solero Ha fatto veramente Una bella strofa E tra l'altro Lui peccato perché Diciamo Si è un po' perso Negli anni Andiamo avanti Con la quattordicesima Che è Guerra Mamma mia Hit Hit Assolutamente Questa insieme a Big Bang Mi sa che era Sono le due Più hard Del disco A questo giro Anche nella strofa Lui ci è andato Veramente Incazzato Nero Proprio potentissimo Tra l'altro Poi si Ketama Queste robe Anche un po' Hardcore Passatemi il termine Anche se si usava Anni fa Le può fare tranquillamente Perché a livello Di immaginario Ma anche di voce Stiamo lì Andri avanti Con Immortale Bello Il sample Mi ricorda qualcosina E infatti Ok ok Questa roba è buona Ok Anche questa regà Davvero davvero carina E bella anche la produzione Ancora una volta prodotta Solamente da Ketama Che infatti Mi sembrava Di aver sentito La melodia Di sottofondo Io da qualche parte E a quanto pare Ha campionato Hang on no I got life Di Nina Simone Comunque lui è stato On fire Sia nelle strofe Che nel ritornello Bella soprattutto L'apertura Perché poi Inizia in maniera chill Poi no Entra in gioco Anche il sample E è bella Quindi ci sta un sacco Andiamo avanti Con quella che dovrebbe essere L'altro Anche se dopo c'è una bonus track L'ultimo treno Featuring Young Beef Ok 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 Ketama Sapete ormai Quanto mi piacciono Autro del genere Molto malinconiche Tristi per chiudere progetti E infatti L'altro mi è piaciuta Quello che però Non mi aspettavo O meglio Pensavo facessero Una roba diversa Proprio Ketama e Young Beef Pensavo uscisse Una roba un pochino Più cattiva Un pochino più cruenta E invece hanno fatto Una canzone Ripeto Molto malinconica Triste Che comunque ci sta un sacco Young Beef Così come Insomma l'altro Di cui non voglio più Pronunciare il nome Perché penso di aver già fatto Troppe figure di merda È un rapper spagnolo Iconico Iconico Perché davvero Lì è anche molto Underground Cioè c'è gente Che ha molto più hype Però lui Ha un'importanza assurda Sono felicissimo Che Ketama Insomma ci abbia collaborato Insieme Spero usciranno altre canzoni Magari anche Un pochino più cattive Che dire È rimasta la bonus track Quindi spariamocela Così poi parliamo Un po' di tutto l'album Carina la produzione Ancora un'altra Ketama Molto carina Scusate se mi sono un po' distratto Ma mi sa che il Milan Ha preso Renato Sanchez Mortacci vostri Questo se lo fate Ritorna in forma È un fenomeno Comunque Tralasciando questa parentesi Figa in culo La canzone È veramente super particolare Ha fatto proprio bene A includerla nell'album Anche se sotto forma Di bonus track Esce anche un po' Fuori dai canoni Di quello che di solito Fa Ketama Quindi a questo punto Parliamo dell'album Vaffanculo raga Mi è piaciuto So contento in culo L'album secondo me È bello Vi dico che così A primo ascolto Chiaramente sono tutte Impressioni a caldo Però lo reputo Pure più bello di Katie Che invece a me Non aveva convinto Particolarmente E che dire Ci sono secondo me Due tre fillerini Quindi diciamo Che se avesse tolto Queste canzoni Sarebbe uscito Magari un progetto Di 14 13 brani Molto più solido Però va anche bene così Perché alla fine Questi cazzi Se quelle canzoni Dopo un po' stancano Basta non ascoltarle Ho visto un Ketama Sia da rapper Più maturo Ma anche da produttore Anzi secondo me Da produttore Ha fatto dei passi avanti Notevoli In fit azzeccati Bella l'idea Di mettere Molta gente estera E qualche italiano Anzi che cazzo dico Vabbè giusto Quelli da 126 Sui italiani Mi sa Non mi resta che chiedervi Voi cosa ne pensate L'album vi è piaciuto Eravate in hype Chi è il vostro fit preferito O la vostra traccia preferita Scrivetemi tutto quello Che pensate di questo album E di Ketama qui sotto Vi leggo tutti Come al solito Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un mi piace Se non lo siete Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se lo siete già Attivate la campanellina Così non vi perdete Ogni video nei reaction cash Condividete questo video Con quanta più gente Volete e potete E noi ci vediamo Ad un prossimo Slap